Cristo benedetto in eterno, Amen, Alleluia, Amen, accomodatevi, Gloria al Signore, che bello stare alla presenza del Signore, vero non c'è nulla di meglio, molti darebbero chissà che cosa e molti spendono tanto per cercare un po' di soddisfazione, di piacere che poi svanisce subito, ma Gloria a Dio perché noi senza pagare nulla abbiamo ciò che è più grande, che di più grande si possa sperimentare su questa terra, stare alla presenza del Signore, Amen, Gloria a Dio. Adesso ci rivolgiamo alla parola del Signore, la vogliamo meditare insieme, leggo alcuni versi nel capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, in realtà gli ultimi versetti di questo Vangelo, Vangelo di Giovanni, Giovanni 21 dal verso 20, poi farò riferimento anche ad altri passi, principalmente sempre del Vangelo di Giovanni, ecco potete seguire sulle vostre Bibbie e comunque vedremo anche il testo, soprattutto per chi segue da casa, Giovanni 21 verso 20, parleremo dell'amore di Gesù, Amen. L'Apostolo Paolo diceva chi è sufficiente a queste cose, come facciamo a parlare dell'amore di Gesù? Lasciamo parlare la parola di Dio. Pietro voltatosi, Gesù era morto, risuscitato, aveva incontrato un gruppo di discepoli sul mar di Galilea, sulle rive del mar di Galilea. Pietro voltatosi vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul petto di Gesù e aveva detto, Signore chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù, Signore è lui? Gesù gli rispose, se voglio che rimanga finché io venga che ti importa? Tu seguimi. Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che rimanga finché io venga che ti importa? Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero a una a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Amen. Il discepolo che Gesù amava vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava. Sicuramente tante volte abbiamo letto, perché come vedremo si trova almeno sei volte questa espressione nel Vangelo di Giovanni. E si trova soltanto nel Vangelo di Giovanni. Per cui è solo Giovanni che definisce Giovanni il discepolo che Gesù amava. Ora, non dice di se stesso dunque il discepolo che amava Gesù, perché questo in qualche maniera potrebbe sembrare un mettere in cattiva luce gli altri, anche gli altri amavano Gesù, né tantomeno sono gli altri evangelisti o altri discepoli a dire di Giovanni che Giovanni era il discepolo che Gesù amava. Come per fare, diciamo, come se Gesù avesse delle preferenze, amasse Giovanni più degli altri. Gesù amava tutti e ama tutti, è vero? Leggiamo ad esempio che Gesù amava quel giovane ricco che andò da lui per chiedergli cosa doveva fare per avere la vita eterna. Leggiamo qui nel Vangelo di Giovanni a proposito di Lazzaro. Quando Lazzaro, il fratello di Maria e Marta, si ammalò, mandarono a dire a Gesù maestro colui che tu ami è malato. E poi c'è scritto Gesù amava Maria, Marta e Lazzaro. Gesù amava tutti i discepoli avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. L'apostolo Paolo stesso dirà che Gesù lo aveva tanto amato. Ma Giovanni, e questo possiamo dire è il suo segreto, noi definiamo, o meglio i commentatori hanno definito, e noi li seguiamo in questo, Giovanni il discepolo dell'amore, vero o no? Il discepolo dell'amore. Ora, intanto diciamo che naturalmente Giovanni non era una persona particolarmente amabile. Non vogliamo parlare male di Giovanni stasera, non voglio parlare male di qualcuno qui davanti stasera, però da quello che noi leggiamo nei Vangeli lo vediamo come una persona settaria, diciamo che quando certe persone, un gruppo etnico, si era comportato male sapete che cosa voleva? Cosa chiese Giovanni, insomma, verso di loro? Era irascibile, vendicativo, diciamo un po' ambizioso e forse, forse, sembrerebbe anche un pochino antipatico. Diciamo che rispecchia un po' tutti noi, diciamo la verità, va, eh? Chi di noi è senza peccato, alzi la mano. Ma Giovanni si definisce il discepolo che Gesù amava. E stasera la parola del Signore viene a dire a ciascuno di noi, con tutti i nostri difetti, con tutte le nostre mancanze, che l'amore di Gesù per noi, l'amore di Gesù per te, è più grande, e per me, è più grande dei nostri difetti, delle nostre mancanze, è più grande. Noi possiamo dire e dobbiamo poter dire di noi stessi, io sono il discepolo che Gesù ama, io sono il credente che Gesù ama. E la mia speranza è che, tra poco, alla fine di questo culto, tutti noi possiamo avere, dalla parola del Signore, dallo Spirito Santo, questa certezza. Io sono la persona che Gesù ama. L'amore di Gesù è concentrato sulla mia vita. Ora, dicevo, siccome è Giovanni che lo dice, e non dice che Gesù amava lui più degli altri, dice di se stesso il discepolo che Gesù amava. Ci possiamo trovare qualcosa di sbagliato? Io e te possiamo dire che Gesù ci ama? Lo stesso Giovanni scrive, nella sua prima epistola, al capitolo 4, versetto 16, noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Ecco, queste parole devono rimanere scolpite nel nostro cuore. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e ci abbiamo creduto. Dio è amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Bisogna conoscere l'amore di Dio e bisogna crederci. Giovanni ci aveva creduto. E quindi ecco che lo troviamo. Noi vediamo, Giovanni, ci sembra, ci sembra, come dire, che Giovanni abbia una corsia preferenziale. Ci sembra che Giovanni abbia un rapporto speciale con Gesù. e talvolta, credo io, erroneamente, sembra, appunto, viene detto che Gesù avesse, come dire, una simpatia particolare verso di lui. Ma in realtà è l'amore che Giovanni sentiva da parte di Gesù che gli permetteva di avere un rapporto speciale con lui. Dio ci ama e ama tutti noi allo stesso modo. Ci crediamo, vero? Però noi abbiamo bisogno di sentire in modo speciale l'amore di Gesù per noi. Perché se questo avviene, se noi come Giovanni possiamo dire di noi stessi che noi siamo, io sono la persona che Gesù ama, questo cambierà la nostra vita. Infatti, dicevo, lui stesso qui lo scrive Giovanni dicendo il discepolo che Gesù amava, vedete, ne parla in terza persona, ma sta parlando di se stesso, quello che durante la cena stava inclinato sul petto di Gesù. Infatti, nel capitolo 13 del Vangelo di Giovanni al verso 23 c'è scritto proprio questo, ora a tavola inclinato sul petto di Gesù stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Questo sentirsi amato in maniera speciale da Gesù portava Giovanni ad avere una vicinanza proprio fisica con Gesù fino a prendersi la libertà di appoggiare la sua testa sul petto di Gesù durante l'ultima cena, sapete, il modo di mangiare di quei tempi, degli orientali praticamente quasi coricati a terra, questo ci fa capire come mai questo fosse possibile, ma pensate la libertà che Giovanni sentiva nei confronti di Gesù. Da cosa veniva? Dal fatto che Gesù, che Giovanni si sentiva amato in modo speciale da Gesù. volendo dare un titolo a questa meditazione stasera l'ho chiamata appunto Gesù ti ama ma pensavo quasi di intitolarla un amore speciale perché questo è quello che Giovanni sentiva e questo credo è quello che noi dobbiamo sentire. non ci dobbiamo sforzare di amare di più Gesù. Abbiamo bisogno di realizzare che Gesù ci ama di più. Più di quanto possiamo pensare, immaginare di più. C'è un canale sempre aperto fra te e Gesù. A me sempre. Io lo dico in generale lo dico a tutti per carità se posso essere utile in qualcosa sono a disposizione siamo in diretta è pericoloso comunque il mio telefono è sempre acceso se avete bisogno di qualcosa ma certamente non tutti sentirebbero la libertà magari di chiamarmi in piena notte ma c'è qualcuno che lo farebbe in caso di necessità perché sa che lo può fare noi con alcune persone magari abbiamo un rapporto speciale loro sanno sanno che possono chiamarci sempre faccio il mio esempio ma credo che questo potrebbe valere per tanti di noi vero o no? Quando noi realizziamo che qualcuno ci ama profondamente questo ci mette in una grande libertà non abbiamo paura di disturbare di dare fastidio tu non disturbi mai Gesù non gli dai mai fastidio neanche per un problema che potrebbe sembrare irrilevante ho un piccolo problema a scuola ma intanto bisogna studiare però ho una situazione e vabbè Gesù si mette adesso con tutto l'universo che ci ha da far girare le guerre si mette proprio pensa proprio a me cosa ci dice è la parola di Dio io credo di sì che Gesù pensa proprio a te che Gesù è tra virgolette preoccupato è coinvolto diciamo così nei tuoi problemi nelle tue situazioni lui lo sa e tu puoi andare a lui in qualunque momento e ti sentirai libero di farlo se ti senti amato in modo speciale da Gesù se sai che quella linea è sempre libera per te è sempre libera anzi che Gesù sta aspettando che tu condivida con lui quello che hai sul tuo cuore perché Gesù ti ama e quando diciamo Gesù ti ama stiamo dicendo che il Signore dell'universo colui che è redere il Signore dei Signori ha un amore speciale il termine che viene usato almeno cinque volte su sei in cui si parla del discepolo che Gesù amava è Agape che parla dell'amore profondo di Dio non è solo una simpatia è amore io e te siamo profondamente amati da Gesù e questo ci deve portare ad avere questa libertà questa vicinanza questa confidenza anche con Gesù infatti dice dice qui abbiamo letto quello che stava inclinato sul petto di Gesù e aveva detto Signore chi è che ti tradisce? Gesù aveva detto che uno di loro lo avrebbe tradito nessuno aveva il coraggio di entrare nei dettagli ma Giovanni che stava lì vicino poggiato sul petto di Gesù glielo chiede Signore chi è? perché quando noi ci sentiamo amati in modo speciale da Gesù noi non abbiamo paura di chiedere le cose a Gesù abbiamo una grande confidenza con Gesù possiamo parlare di tutto e Gesù ci risponde e infatti Gesù lo ha detto a Giovanni è colui al quale darò il boccone dopo averlo intinto l'ha detto a Giovanni perché ha chiamato Giovanni da parte gli ha detto ti dico un segreto e non lo dire a nessuno no glielo ha detto perché Giovanni gliel'ha chiesto cosa dice l'apostolo Giacomo non avete perché non domandate chiedi a Gesù chiedi e lui ti risponde perché perché tu sei amato da Gesù sei amato da Gesù troviamo questa espressione anche in occasione della crucifissione Giovanni 19 26 Gesù dunque vedendo sua madre presso di lei il discepolo che gli amava disse a sua madre donna ecco tuo figlio di Giovanni e Giovanni ecco tua madre in qualche maniera Gesù prima di morire di lasciare fisicamente questa terra affidò sua madre sicuramente ormai vedova a Giovanni pensate che responsabilità ha avuto Giovanni di prendersi cura della mamma terrena di Gesù perché perché Giovanni stava lì presso la croce di Gesù e Gesù gli ha dato questo incarico se stiamo vicino a Gesù Gesù ci dirà delle cose meravigliose e ci affiderà anche delle responsabilità se noi realizziamo di essere profondamente amati da Gesù noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto gloria al nome del Signore e poi il passo che abbiamo letto il passo che abbiamo letto il discepolo che Gesù amava quanto è grande l'amore del Signore questo amore è qui ed è a nostra disposizione questa sera non riguarda soltanto Giovanni l'abbiamo visto anche qui Giovanni capitolo 20 capitolo 21 il discepolo che Gesù amava disse è il Signore è lui che riconosce in quel personaggio che stava lì sulla sulla riva è lui che riconosce Gesù è il Signore quando io e te ci sentiamo amati in modo speciale da Gesù noi lo riconosceremo Gesù negli eventi lo riconosceremo i nostri occhi saranno aperti per riconoscere colui che ci ama così tanto non sono casuali le cose che avvengono è colui che ci ama a compierle gloria al Signore è il Signore alla tomba fu Giovanni ad arrivare per primo corse avanti prima di Pietro riconosce che Gesù è il Signore e poi naturalmente Giovanni che non ha scritto solo questo Vangelo dopo l'Apostolo Paolo il più prolifico del Nuovo Testamento ha scritto tre lettere il Signore gli ha rivelato l'Apocalisse lo troviamo lì nell'isola di Patmos esiliato ma che stava in comunione con Gesù nel giorno di domenica e il Signore gli dice sali sali io ti faccio vedere delle cose particolari perché quello che non può la nostra capacità la nostra preparazione la nostra intelligenza lo può l'amore del Signore un altro personaggio mi avvio la conclusione che ci parla di questo è il profeta Isaia da parte del Signore Isaia 54 verso 10 anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi l'amore mio non si allontanerà da te nel mio patto di pace sarà rimosso dice il Signore che ha pietà di te e del profeta Daniele di Daniele deportato abbiamo parlato cominciato a parlare alla scuola domenicale di lunedì Daniele 9 verso 23 quando hai cominciato a pregare Daniele c'è stata c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela perché tu sei molto amato fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione e ancora al capitolo successivo poi mi disse Daniele uomo molto amato cerca di capire le parole che ti rivolgo alzati nel luogo dove stai perché ora io sono mandato da te quando egli mi disse questo io mi alzai in piedi tutto tremante verso 19 egli disse non temere o uomo molto amato la pace sia con te coraggio sii forte alle sue parole ripresi forza e di si parla o mio signore perché tu mi hai fortificato tu mi hai fortificato stasera la consapevolezza di essere non solo amato ma molto amato da Gesù può cambiare tutto nella tua vita nella mia vita di essere molto amato di essere amato da Gesù in un modo straordinario Gesù ha per te e per me un amore unico amè unico io e te siamo continuamente nei suoi pensieri siamo grandemente amati molto molto amati ed è questo è questo che può cambiare la nostra vita la può cambiare la prima volta che realizziamo l'amore del Signore la può cambiare la può trasformare può dare un impulso inimmaginabile alla nostra vita e la nostra vita spirituale anche dopo anni che abbiamo creduto in Gesù il momento in cui apriamo gli occhi e realizziamo io sono quel credente quel discepolo che Gesù ama sono io sono io parla Signore perché tu mi hai fortificato ci vogliamo alzare in piedi vogliamo dare gloria al Signore vogliamo chiedere che lo Spirito Santo in questo momento applichi la parola di Dio al nostro cuore personalmente perché anche se siamo in tanti riuniti lo Spirito Santo opera individualmente personalmente prima ancora di operare in mezzo al popolo alla comunità e vogliamo chiedere che lo Spirito Santo applichi la parola al nostro cuore oh Signore fammi sentire quanto mi ami fammi credere quanto mi ami Signore fammi realizzare che io sono grandemente amato molto amato da te che tu hai per me un amore speciale alleluia che non ci sono restrizioni non ci sono limiti nulla Signore ci può separare perché io sono la persona che tu ami alleluia e tu hai dato la tua vita per me su quella croce tu pensavi a me mentre davi la tua vita alleluia gloria a Gesù gloria a Gesù ringraziamo il Signore con tutto il cuore alleluia alleluia gloria a Gesù alleluia 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 Grazie a tutti.